In questo video andiamo a rivedere ancora una volta il mio posizionamento a ribasso sul mercato del gold, perché sono rimasto ancora in posizione e probabilmente se il mercato dovesse effettivamente continuare questa sua discesa andrò ad incrementare il mio posizionamento sempre ribassista su questo asset. Ben ritrovato in questo nuovo video, sono sempre Damiano Zito, price action trader indipendente, membro e collaboratore di questa community, quella che vede sempre Professioni Trader, la rubrica dove ogni settimana racconto il mio diario di trading su un conto reale che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia intrapreso in Airforex. Bene, quindi vediamo subito quello che è questo mio posizionamento, il posizionamento dell'oro che va avanti da due o tre puntate su questo canale, quindi short sul gold e prendo spunto da alcuni commenti che sono arrivati per fare dei ragionamenti insieme a voi in questo video. Allora, il mio posizionamento, lo abbiamo visto, in questo momento è meno 40 euro, quindi è un ingresso che ho fatto ormai qualche giorno fa sul formarsi di questa pinbar, quindi a livello di 2310 ho deciso di investire 250 euro con uno stop a 2410, quindi 100 dollari di stop su questo mercato, 250 euro di valore economico del mio stop, diciamo, del mio investimento, e per quanto riguarda invece l'incremento, ancora questo non è stato attivato, lo andiamo a discutere più avanti in questo video, ma andiamo a vedere come e perché sto decidendo di vendere l'oro, qual è la dinamica che mi sta portando a vendere questo mercato. Allora, se noi guardiamo effettivamente sul settimanale il mercato dell'oro da questi minimi, quindi da ottobre 2023, c'è stato sicuramente un forte rialzo al netto dei ritracciamenti, che poi ha portato appunto a queste due gambe, quindi le due gambe più importanti, sempre al netto dei ritracciamenti, che hanno visto il mercato dell'oro nell'ultimo periodo essere decisamente forte, bullish. Se però andiamo a vedere quello che succede nell'ultimo rialzo, rispetto per esempio a questo, a questa parte di rialzo, o qui è già un po' più simile all'ultima parte di rialzo, vediamo che il mercato qui ha delle candele che cominciano, anzi che hanno dei corpi molto molto importanti, cioè la volatilità rispetto per esempio a questo rialzo, rispetto a questo rialzo è decisamente importante. E quindi che cosa succede? che questo aumento di volatilità effettivamente porta un po' a distanziare un po' il prezzo, se guardiamo le chiusure o i massimi, rispetto anche a quella che è, diciamo, questo indicatore che è l'indicatore di prezzo della media mobile, fondamentalmente si sta dicendo che c'è luce, cioè fondamentalmente mi sta dicendo che il mercato ha accelerato un pochino più del solito, ok, rispetto diciamo a quella che è la sua storia. E questo tipo di movimento, questo tipo di accelerazione lo possiamo vedere in realtà in tutti i mercati, però rimaniamo sull'oro. Se vediamo anche qui, quando c'è stato aumento di volatilità, chiaramente questo è ovvio che corrisponde a rispetto, rispetto alla media, una distanza maggiore. E quando c'è questo tipo di distanze, chiaramente il prezzo tende un po' a riequilibrarsi, cioè la volatilità tende un po' a riequilibrarsi. Qui questo aumento è stato un pochino più importante. Ma non è questo, diciamo, l'elemento che chiaramente mi fa entrare short, cioè non vado contrarian solo per il fatto che il mercato si è distanziato dalla media che è praticamente calcolato sul prezzo stesso. Vado a vedere un po' quella che è la dinamica, poi che si viene a verificare nel breve, e quindi decido se effettivamente vale la pena mettere dei soldi per muoversi con la dinamica di prezzo e se ci sono gli interessi, probabilità a mio favore affinché il prezzo effettivamente si possa muovere verso quello che ritengo essere un progetto valido, sano, in base alla dinamica di price action e in base a dinamiche anche passate di questo asset, quindi del loro. Quindi nel momento in cui il mercato ha fatto questa ultima gamba, la dinamica che ha creato è che, se andiamo a vedere, è abbastanza chiaro è stata quella di un ritracciamento con questa che è, diciamo, un setup, una strategia d'ingresso, FTV che è stata anche convalidata e che, come abbiamo visto anche nei video precedenti, qui ha creato praticamente una falsa rottura, cioè va a rompere il massimo storico precedente, ne registra uno nuovo e viene giù in volatilità con una candela outside. La volatilità di questa candela è importante, cioè è un'informazione che in questo caso va, diciamo, va presa, va capita, cioè mi sta dicendo il mercato è un mercato forte, ha registrato un nuovo massimo, ma qui sono arrivate delle vendite e la volatilità mi sta anche indicando che probabilmente anche con grossi scambi. Quindi, che cosa succede? Aumento di volatilità al ribasso, comunque qui siamo ancora in un trend long, diminuzione della volatilità, e quando c'è stata questa diminuzione della volatilità, io qui, se non ricordo male, ho fatto un posizionamento short, sì, a fine maggio, l'idea che possa andare a prendere la zona dei minimi precedenti è piuttosto plausibile, cioè volatilità, riduzione della volatilità, nuovo, diciamo, setup d'ingresso, magari con una pinbar, è abbastanza tipico, e poi andare al target, diciamo, naturale. Infatti, così è stato. Io qui, però, ho fatto, diciamo, un'uscita prematura e poi il mercato è andato, è andato praticamente al primo target. Eccolo qui, quindi avevo fatto un ingresso su questi livelli, se non sbaglio, poi il mercato ha fatto la falsa rottura ed è andato proprio a prendere, diciamo, il primo target. Quindi, se andiamo a vedere ancora, appunto, la volatilità del mercato, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che dopo questo trend long, qui continuano i prezzi ad essere buttati giù con candele di volatilità. Io sono entrato nuovamente short a livello di 2003-10. Dopo questo, questa indicazione di prezzo, chiaramente dopo questa volatilità, quindi questa volatilità, cerco di farla meglio, quindi volatilità, anche qui, boom, 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 consolidamento, falsa rottura, questo è molto tipico, falsa rottura, ribasso, dopo questo aumento di volatilità, quindi c'è ancora una riduzione di volatilità. Qui c'è stato un esaurimento nella giornata che mi ha fatto pensare di fare questo posizionamento short a 2003-10. Qui, di nuovo, quindi volatilità, ritracciamento, falsa rottura, e adesso vediamo, perché qui quello che potrebbe avvenire, con molta più probabilità, che io, insomma, sto andando a progettare come trade, ed è la rottura, magari, di questo minimo andare sicuramente in prima battuta su queste zone, su questi livelli, e poi vediamo se riusciamo ad avvicinarci all'idea, quella che è, insomma, del mio progetto, che potrebbe portare i prezzi un po' più in basso, e quindi torno sul settimanale. Torno sul settimanale, perché l'idea che il mercato possa andare verso, diciamo, questa zona del 2002-2180 è il mio progetto o progetto di trade. Ed è quello che effettivamente sto tradando. Sto tradando, quindi, una struttura che sta indicando debolezze che potrebbe ritracciare più profondamente. Perché quella zona lì? Chiaramente qui c'è una zona importante, quindi c'è, troviamo, questa chiusura qui è decisamente una zona importante e chiaramente prima abbiamo questa zona di minimi da superare, poi zone intermedie che probabilmente si vedranno forse meglio sul giornaliero. Però, ecco, io qui ho già tracciato quella che è superata questa zona qui, se verrà superata, quella che potrebbe essere, diciamo, la zona dove andrò eventualmente a prendere profitto. Se guardiamo, poi, le dinamiche dell'oro, quindi del gold, nel passato, su, diciamo, forti aumenti di volatilità e ritracciamenti, le dinamiche che si sono venute a creare, che poi hanno creato un ritracciamento, non proprio delle inversioni, comunque dei ritracciamenti anche più profondi, possiamo andare nella storia. Io avevo studiato queste situazioni, ce ne sono altre, sia sul gold, sia su altri mercati, però, diciamo, rimango, rimango qui. Quindi marzo 22 e luglio 2020 sono due situazioni che sono anche qui, diciamo, analoghe, se vogliamo. Quindi rialzo, quindi aumento di volatilità, forte aumento di volatilità, poi barra di volatilità ribassista, e poi dopo qualche settimana il prezzo, no? torna con, anche un po' con diverse settimane, diciamo, poi a consolidare con volatilità verso livelli più bassi rispetto a quelli che erano i massimi storici registrati. Poi, insomma, quello che avviene poi nelle settimane successive, non lo andiamo ad analizzare. Anche qui febbraio, febbraio-marzo 2022, c'è stato aumento di volatilità, poi ribasso e quindi consolidamento, anche qui diminuzione di vola, falsa rottura, e poi questo movimento ribassista. Se analizzate un po' con, anche con calma, queste settimane, allora, proviamo a metterlo un po' sul giornaliero, quindi andiamo per esempio sulla settimana 11 del 22, quindi settimana 11 del 2022, andiamo per esempio a studiare questa dinamica qui, magari su marzo, ok, eccoci qua. Eccola qui, l'avevo già studiata. Cosa succede? Succede che qui, effettivamente, chiaramente il prezzo si comporta sempre in maniera diversa rispetto al passato, cioè fa delle dinamiche che si ripetono, ma non è che le dinamiche sono sempre precisamente uguali. Quello che è importante è capire che cosa ci sta dicendo il mercato. E in questo caso, guardiamola quindi sul giornaliero, c'era appunto questo rialzo che porta a questo eccesso, se vogliamo. Qui c'era stato già un primo tentativo probabilmente di portare a ribasso, ma la Pimbara non è mai stata convalidata. Qui c'è stata una falsa rottura, una trappola, diciamo l'ultima candela di vola che è stata rimangiata con questo aumento di volatilità ribassista. E come possiamo vedere, qui c'è stato aumento di volatilità ribassista che recupera gran parte del movimento di vola e anche qui consolidamento, falsa rottura, ribasso. Quindi questo, no, possiamo andare a vederlo come per esempio quando ho fatto il primo ingresso a fine maggio, qui c'è stata la trappola, io qui sono uscito e lui poi ha fatto una falsa rottura. Qui l'ha fatto in maniera diversa, magari in più giorni, ma comunque ha fatto una falsa rottura e va a prendere i minimi precedenti. Poi lui qui ha impiegato più giorni in bassa vola a creare un rialzo, una nuova, ulteriore falsa rottura di questo pullback e poi il mercato viene giù. È una dinamica, una dinamica chiaramente che va un po' interiorizzata e capita. Non sto dicendo che il mercato del oro oggi potrebbe fare, cioè farà questo sicuramente, però potrebbe farlo. Quindi volatilità, aumento di volatilità ribassista, consolidamento, falsa rottura, ribasso, qui abbiamo avuto consolidamento, qui abbiamo avuto un rialzo poi più corposo, falsa rottura dei massimi precedenti, quindi questa zona qui che è avvenuta in più giorni e poi è stato, diciamo, il mercato è stato buttato giù, quindi c'è stata questa fase poi di ritracciamento un pochettino più profonda che ha portato il prezzo dai 2.000 o poco meno ai 1.800 dollari per oggi. Possiamo andare a vedere anche altre dinamiche, però, insomma, non mi voglio dilungare, il video diventa anche noioso, anche, insomma, andrebbe trattato con più dettaglio nel, diciamo, in più tempo, in più tempo. Però, diciamo, questa è la dinamica, quindi volatilità, volatilità che viene rimangiata, consolidamento, false rotture e poi ribasso. chiaramente il mercato poi non fa tutto con lo stesso tempo e lo stesso modo e quindi va sempre tutto contestualizzato a quello che è il momento e come lo sta facendo. Però, ecco, punto, riprendiamo anche qui. C'era stata la volatilità long, volatilità ribasso, consolidamento, falsa rottura con trap bar, eccola qui, e adesso lui sta facendo questo. Non ha creato, ma lo potrebbe anche fare, per esempio, non è detto che questo venga rotto a rialzo o addirittura torni verso questi livelli e poi effettivamente il prezzo viene buttato giù, però la dinamica che si è venuta a creare in questo caso sta indicando la possibilità che se venisse il mercato a ribattere un po' questi prezzi, 2003-16, effettivamente, la probabilità almeno di andare nuovamente su questi minimi e poi vediamo, c'è. E quindi, ecco il mio posizionamento. Non so se sono riuscito a trasmettere un po' quella che è la mia idea, quindi il motivo per cui sto entrando, il motivo per cui decido di mettere del denaro e seguire una dinamica di prezzo che ho già visto che ho interiorizzato, perché chiaramente questo tipo di dinamiche vanno un po' anche interiorizzate, cioè fatte proprio per poi tradarle. Chiaramente io non posso sapere se oggi, domani, dopodomani, verrà in realtà invalidato anche questo setup, cioè questo doppio massimo lower close, FTV, quello che vogliamo, però quello che è importante in questo caso è la dinamica, a prescindere da come chiamiamo il setup, è quello che ci sta dicendo il mercato. E quindi, diciamo, da qui l'idea dell'incremento che adesso ho inserito, inserito alla rottura di questo minimo che va ad aggiungere ai miei 250 euro iniziali un ulteriore investimento di 150 euro. Ok, quindi decido, ho deciso di fare questo ulteriore incremento che ovviamente ancora non è entrato perché serve che il mercato torni a battere un po' questi prezzi, cioè va a rompere questo minimo e quindi aggiungo questi 150 euro ai 250 euro iniziali e nel momento in cui poi il mercato arriva su questi livelli andrò a gestire, molto probabilmente andrò ad abbassare poi questo stop e quindi diciamo a ridurre l'investimento monetario il rischio che ho a mercato sulla base di quella che è la dinamica che si verrà a creare su questa base ovviamente se il mercato ci arriva e quindi questa è la mia posizione sull'oro. Siamo al momento anche sotto quello che è il pivot mensile è un livello che io lascio sempre sul grafico non ho non ne parlo spesso nei video se avete notato però insomma in questo caso si nota anche come questo questo livello sia anche diciamo la zona del pivot mensile è una confluenza sul prezzo se vogliamo. Detto questo quindi questa è la la mia posizione sull'oro quindi rispetto rispetto al mio ingresso comunque adesso il mercato ha fatto questo questo movimento c'è stato questo ritracciamento qui questa volta ho deciso di rimanere in posizione perché dopo aver fatto questa uscita prematura sono andato a rivedere come sono state create in passato le trap bar quale potrebbe essere stata la sensazione che dovevo registrare per capire se era un movimento trappola oppure oppure meno quindi sono rimasto al mercato sono rimasto al mercato il mercato in questo caso effettivamente è venuto giù adesso adesso andiamo a vedere se c'ha forza per continuare questo questo ribasso sull'onda di questo momento di dollaro forte quindi dollaro americano forte ho poi inserito un ulteriore short quindi compro dollari americani anche su su sterlina dollaro sterlina dollaro che avevo già anticipato nello scorso video avrei potuto vendere con un sell stop così poi ho fatto anche perché se andiamo a vedere un po' il settimanale la diciamo la struttura che anche qui veniva da da un long adesso potrebbe aver terminato questo suo questo suo rialzo siamo in una struttura sicuramente a range qui abbiamo una zona di vendita precedente importante andiamolo a vedere un po' in questo modo quindi livello decisamente importante qui c'era stata una falsa rottura marzo marzo scorso adesso il mercato arriva e proprio su su questi livelli va a prendere questo questo livello di chiusura crea una pinbar molto bella sul settimanale la convalida con quella che sul giornaliero è una dinamica molto interessante infatti è una dinamica che eccola qui va a rompere tutta questa zona questa zona di 1.27 dove adesso sta tornando il mercato dove vediamo se il mercato ha la possibilità di tornare al ribasso e quindi io ho deciso di vendere alla la rottura del minimo di questa che è una ftv power quindi di questa dinamica short che va a convalidare quindi il settimanale e adesso è in fase di ritracciamento per quanto riguarda questo trade ho deciso di utilizzare il diciamo come come stop la volatilità praticamente doppia rispetto al setup di ingresso anche perché qui abbiamo la zona di queste chiusure importanti poco sotto 1.28 dove se il prezzo dovesse tornare con forza poi a quel punto se dovesse ritracciare eccetera probabilmente andrei a valutare l'uscita l'uscita a costo e quindi ho deciso di fare questo tipo di investimento quindi 200% cioè il 100% della volatilità di questo setup che è il mio setup di ingresso al momento quindi siamo in fase di ritracciamento siamo in zona 1.27 la zona 1.27 è stata una zona di pavimento una zona dove effettivamente potrebbero tornare le vendite magari non oggi darsi domani e quindi a quel punto comunque andrò sempre a gestire la posizione anche qui l'investimento adesso è un investimento iniziale potrei potrei decidere poi di fare di fare un incremento quindi valuterò sulla base di quella che sarà la la dinamica la dinamica di di prezzo quindi due posizioni due posizioni in essere in questo caso su su questo su questo nuovo video la continuazione dello short sul gold mi auguro sia un pochettino più chiara e nitida quella che è la la dinamica che mi ha portato che mi ha spinto un po' a fare questo trade invece poi quella della starlina credo sia un po' più chiara abbiamo questo questo settimanale con una pinbarra veramente molto molto interessante convalidato diciamo confermato con una una dinamica sul sul giornaliero che abbiamo visto essere una dinamica con una nostra strategia di ingresso e che effettivamente può può dare diciamo l'idea diciamo un boost per andare più o meno più o meno su su questi livelli quindi la zona tra 1.25 1.25 potrebbe essere la zona dove dove andrei a prendere eventualmente profitto quindi anche per oggi è tutto io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto se c'è qualcosa che ancora non diciamo non è chiara c'è qualcosa invece sulla quale ci possiamo confrontare utilizzate sempre i commenti qui sotto è sempre veramente sempre un piacere anche un momento di crescita di condivisione e se è piaciuto il video chiaramente un mi piace iscrivetevi continuate a guardare i video di questo canale io vi ringrazio vi saluto e vi auguro buon trading alla prossima ciao